Positive Technologies è un'azienda che opera nel campo della sicurezza dal 2002. Sono 14 anni circa che operiamo nel campo della sicurezza a 360 gradi. Ad oggi l'organizzazione conta circa 700 addetti in tutto il mondo, siamo una multinazionale. Operiamo in settori ben specifici, quindi nella sicurezza delle applicazioni, l'application security suite, nella gestione e la ricerca delle vulnerabilità nei vari sistemi in cui facciamo ricerca, per quanto riguarda anche sicurezza delle reti OT, quindi reti scada, e soluzioni verticali di assessment e anche di sicurezza per quanto riguarda le reti degli operatori mobili. Ad oggi la cosa che ci piace sottolineare è che abbiamo uno dei centri di ricerca e sviluppo di sicurezza tra i progranti in Europa, dove contiamo circa 250 addetti. Per quanto riguarda praticamente le branch, siamo un po' suddivisi su tutto il territorio internazionale, dove abbiamo appunto una branch italiana, londinese, siamo presenti veramente in Germania, piuttosto che in Corea, piuttosto che a Dubai, in Brasile, a Boston dove abbiamo una grossa partecipazione a una struttura marketing e in altre regioni internazionali. Ad oggi qui, in questo evento dove siamo presenti, abbiamo portato principalmente la nostra soluzione di web application firewall, quindi l'application security suite che proviamo sul mercato. Con Checkpoint, che è un nostro technology partner di riferimento, abbiamo integrato praticamente la nostra piattaforma di web application firewall per andare praticamente a livello applicativo, quindi all'IR7, a identificare gli IP che devono essere naturalmente bloccati dalle piattaforme Checkpoint. Quindi lavoriamo in questa maniera a livello di IP e a livello anche di log. Nei nostri progetti futuri abbiamo praticamente l'espansione sul territorio nazionale e anche su altre branch. Infatti a breve stiamo per assumere due persone nel territorio del centro nord d'Italia, piuttosto che aprire nuovi centri per quanto riguarda sempre l'Europa. Quindi stiamo aprendo anche un centro a Bernon dove porteremo 30 sviluppatori per quanto riguarda le nostre soluzioni di security per il mondo telco. L'azienda è in continua crescita e per noi è l'importanza e la soddisfazione dei nostri clienti globali a cui ci rivolgiamo. Grazie per la visione!